Il timore che il peggiore degli scenari possibili diventi in realtà ammanta l'atteso discorso di Theresa May sulle condizioni della Brexit. Oggi la Premier conservatrice britannica prenderà la parola alla Lancaster House di Londra e il timore è che si pronunci in favore di una versione dura e pura del divorzio dall'Unione Europea. Uscita totale dal mercato unico per poter avere controllo totale sull'immigrazione. Pesanti le critiche da parte della Premier scottese Nicola Sturgeon, i punti principali di quel che sarà il suo discorso, i commenti, le anticipazioni di Philip Hammond sulla stampa tedesca sono preoccupanti. Quella che emerge è una corsa a ribalso, una sorta di economia sotterranea con la quale il governo britannico cerca di attrarre investimenti nel Regno Unito offrendo tasse inferiori, salari bassi, una deregolamentazione in termini di diritti dei lavoratori, ha detto. Il destino di un Regno Unito, isolato non soltanto geograficamente ma economicamente dal continente, intanto non fa dormire sonni tranquilli alla sterlina che ieri ha toccato i suoi livelli più bassi dal 1984. Nell'intervista rilasciata al Times, il presidente statunitense eletto Donald Trump ha lodato la Brexit e preannunciato che altri paesi seguiranno l'esempio di Londra.